Lui è Esteban, è un gattino che ha 20 giorni. Esteban è stato recuperato quando aveva pochissime ore di vita. La mamma gatta l'aveva partorito in una proprietà abbandonata, dopodiché è arrivato il proprietario, la mamma si è spaventata e quindi l'ha lasciato lì. E' rimasto per alcune ore da solo sull'asfalto ed è stato recuperato da una vicina di casa che l'ha sentito strillare a squarciagola poco prima di un temporale. Quindi lui è un sopravvissuto, un vero lottatore. Quindi se vi siete innamorati di questo batuffolino, di questo tigrottino, chiamateci perché lui ha bisogno assolutamente di una famiglia. Mamma mia che teppisti che siete voi! Ma avete visto invece Esteban come bravo? Che gattino dolce dolce mentre voi siete delle birbe? Eh ma guarda ti mangi tutto a ranuscello! Beh è davvero un micetto irresistibile credo il nostro Esteban, non siete d'accordo con me? E allora amici, 20 giorni sono davvero pochi per essere abbandonato ed è peraltro anche molto strano che la mamma lo abbia lasciato così. Chissà che cosa è successo, deve essersi spaventata, non lo so. Comunque quello che è importante è che lui sia riuscito a sopravvivere. Tu vuoi mangiare la bandana della lei da Briconcello. Esteban ce l'ha fatta, i volontari sono stati bravissimi e lui potrà presto arrivare a casa di una nuova mamma. Quindi amici non aspettate, scrivete subito il numero di telefono e chiamate per adottare Esteban al 320 03 80318 oppure come sempre potete scrivere a portamiacasa chiocciola dalla partedeglianimali.it